e ciao a tutti ragazzi sono alberto oggi sono radio su minecraft allora non so da quanto tempo non facciamo un video di minecraft però vabbè comunque ragazzi oggi dopo sette mesi ma esattamente sette mesi torna l'albicraft allora come potete vedere nella segreta l'ora dello scorso episodio che era fatto sette mesi fa stavo finendo di costruire la casa no e volte ragazzi l'ho migliorato un po ho fatto anche il secondo piano perché altrimenti non è proprio una vera casa quindi va bene allora no no il creeper non lo voglio qua a casa mia no no dai maledetti creeper vabbè allora oggi ragazzi finiremo tutta la casa va bensì tutta perché ragazzi volevo anche arredarla però ancora non c'è niente quindi vabbè allora io qui direi di mettere iniziamo con dei vetri sto scherzando non volevo metterne due perché sono solamente dieci quindi ok e niente vabbè si rompono sti vetri va bene allora ok qui mettiamo una mensola con due vetri che qui va anche bene tanto non ci fanno comodo niente è molto fastidioso quando tolgo il legno ma va bene comunque allora raga oggi vostra casa la voglio finirla perché altrimenti così dopo nel prossimo video andiamo ad arredarla che ne dite dopo sarà una bellissima vanilla questa è una vanilla perché l'albi craft allora avete vedere la che indicato quella di kendall ecco appunto la faccia mi identica quella però molto più diversa della sua perché altrimenti non vorrei scoprare altrimenti li devo dare i crediti ovvero taggare nel video io non voglio sta cosa però vabbè allora raccogliamo tutto sto legno che sto facendo cadere perché da fastidio ok comunque anche di legno vi lo dico ho due stack quindi secondo me pensa che non basterebbero però vabbè se non bastano non ci posso farlo finirò off camera la casa vabbè allora qui mettiamo tutto il legno che dobbiamo mettere ovvero tutto questo 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 allora non so quanto la facciamo alta la casa però bensì molto perché altrimenti non è la vera casa ecco quello che ho detto io poi altri qua allora è una casa un po' smonchina ecco vabbè e comunque va bene allora aia che male ok poi qui allora l'entrata da quello che avete capito la facciamo qui qui esattamente però raga le finestre volevo anche metterla una fuori una sopra e quindi va bene allora finiamo lì sopra ragazzi ho finito uno stack mi sa che non basta qui mi sentite da prendere la creativa e prendere uno stack mi stai dicendo questo veramente serio devi essere serio fra serio e niente stileni se li metto male mi dà un fastidio tremendo quindi mettiamo bene stileni va vale allora non so come fra questa casa alla fine però penso venga bella 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 qui adesso mettiamo le scale dai o ragazzi ho capito che tutto questo stacco non ci serve quindi dovevamo prendere la creativa e vede tipo quattro stack di legno tipo ma perché penso che non bastano e infatti ragazzo come non bastano quindi vabbè anzi dato che cos per costruire noi utilizziamo la creativa alcuni youtube usano la cartina con la sopravvivenza però io ragazzi uso la creativa perché faccio meglio allora ma così molto meglio comunque ragazzi ho anche il telefono rotto quindi mi va comunque il minecraft cioè non è che ho allo schermo tutto rotto c'è tutto lo schermo rotto nello schermo però ragazzi riesco comunque a giocare quindi state tranquilli i miei video usciranno allora la casa la facciamo alta come come abbiamo previsto così allora così ragazzi direi che ci può anche stare ragazzi come grande gigantesca così anche troppo gigante vabbè cuore è tipo una venuta una villona una villona una uscio una bella villona è venuta qui è ecco qua allora allora ecco fatto il sotto si presenta in sto stato qui mettiamo del vetro che ci sta anche bene ecco qua perfetto qui continuiamo a fare il tetto fatto perché altrimenti non ha senso praticamente neanche di più cura che questo video lo sto registrando il che giorno è oggi l'undici penso di febbraio e voi ragazzi lo vedrete stasera alle 7 io ragazzi lo sto registrando tipo verso le 5 quello era lì quindi ci metto un po allora facciamo il tetto così ragazzi perché altrimenti lo finirò meglio off camera perché altrimenti anzi finiamo anche anche adesso il tetto quindi va bene no sto sbagliando tutto no non sto ballando niente perché sto mettendo male i blocchi allora 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 lo stato si risulta così però 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 allora aspettate un secondo eh teniamo tutto sto lento che non è bisogno di usare tutto sto lento non utilizzarlo spesso mai ecco qua qui facciamo così perché altrimenti da molto fastidio molto molto fastidio e questo ragazzi è tipo una sorta di tetto vabbè allora per quanto riguarda cosa è sta roba ok non è successo niente praticamente vabbè qui faremo la stanza da letto questa è un po' piccola però ci sta come stanza da letto allora che facciamo una porta immensa tipo questa così va bene così va bene qui raga lo facciamo molto più piccolo rispetto sotto perché sotto ci sono molte più cose rispetto sopra quindi ok allora 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 quanto lo facciamo alto sopra allora io direi un po' perché altrimenti allora vuole fare anche dei tocchi aspetta però eh qui avevo detto che mettevo delle finestre no? ecco due due qui e due qui allora come caso non è proprio bella eh come sta venendo per ora prendiamo delle scale facciamo dei dettaglietti tipo con il quarzo levigato con quello che ho fatto le scale facciamo così vediamo com'è aspetta un attimo oh così si che è una bella casa un po' di dettaglietti strani però va bene un po' strambi di dettagli ma va bene e andiamo a contornare a contornare ma cosa sto facendo cosa sto facendo mi potete spiegare che cosa sto facendo? cioè sono raga sono stupido cioè devo fare ancora le mura e sto facendo una scala cioè raga sono stupido di brutto ok questa cosa non va fatto bene però va bene allora sta anche venendo notte però vabbè non ci lasciamo perdere allora gridere fa l'alto 3 che altrimenti ci mettiamo troppo tempo troppo tempo quindi alto 3 non so se sia alto 3 non basta però dopo di questo facciamo un altro strada e poi basta in teoria alto 3 dovrebbe essere così ok allora devo dire la mia opinione mia è più facile dal telefono che dal computer perché dal telefono poi è molto più veloce mentre dal computer puoi fare anche molto più veloce però devi abituarti dal computer se la dimetti non ce la fai proprio a fare niente ecco allora questo è tutta mura ma non ci credo come tutta mura no no ho fatto un pasticcio vabbè è una casa molto grande allora allora questo è il terzo strato mi stai dicendo che questo è il terzo strato ma lo vuol dire che non basta cioè non basta così questo strato lo possiamo anche togliere tanto non ci fa niente allora prendiamo il coso del pavimento perché altrimenti qui da fastidio molto molto fastidio tu non ci tocca dormire perché è notte esatto notte ok così è perlo allora intanto intanto e dormiamo perché lo vorrei fare costruire di notte perché altrimenti lo forse non guarderei quasi niente però va bene noi intanto dormiamo togliamo il letto e vai e ricominciamo a costruire allora ho pensato una cosa se qui c'è tutto sto spazio perché non mettiamo qui delle scale idea di me vabbè possiamo farlo quello che ho detto io ci metto ad andare scale qua così vai alla camera da letto e però qui dobbiamo allargarlo di più mi sa perché e perché 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 si vediamo così con me va bene se va bene allora più o meno va bene così è più o meno va bene si raga così va bene allora basta dire allora lo facciamo troppe volte vabbè comunque facciamo alto 3 anche qui e raga questa è una è una casa gigante per me non potevo fare più piccola no eh vabbè comunque ragazzi se ancora non ti sei iscritto al canale mi raccomando iscriviti attiva la campanella perché porterò molti video sull'albicraft ditemelo voi ho fatto anche dei sondaggi nelle community perchè so che sarà che se non vedete la mia community faccio dei sondaggi vado a lì praticamente a decidere e che cosa volete che riporto e ha scelto la avete scelto l'albicraft e quindi io adesso la riporto allora così mi sa che va bene ecco qui c'è il tetto veramente no qui non c'è il tetto e non si invece porca miseria allora vabbè lasciamolo così intanto non ci dispiace quindi mi stai ritenendo che sto ammasso e devo lasciarlo così sì sì ah raga mi è venuta un'altra idea e se tipo facciamo una zona qui adatta per il qui ci mettiamo tipo un terrazzino che ne dite? che bella idea che mi è venuta quindi qui buchiamo non non proprio è niente non so parlare non proprio così esatto così poi avete un'altra zona terrazzo che non dite raga come idea perché raga una terrazza ovviamente deve avere un terrazzo ovviamente che che cosa che cosa sarebbe invece in teoria cioè ma che bella idea ok sono un genio non proprio un genio però va bene raga non sono un genio state tranquilli eh non sono un genio non sono un genio perché mi sta laggando in minecraft vabbè allora allora ok così va bene non mi dispiace come cosa eh non mi dispiace però va bene allora per il terrazzo usiamo queste le barrate di ferro ovviamente perché altrimenti raga vuoi cadere qui dentro vuoi cadere? cadi pure no raga sentite le voti qui sotto sentite le voti sottofondo ma vabbè comunque mettiamo qui per il terrazzo tutte queste cose qua vai ok andiamo da lontano e vediamo com'è venuta olè guardate che carino che è molto bello non mi dispiace come cosa per niente ora queste cose le mettiamo via e continuiamo a continuiamo a costruire allora crede c'è qui facciamo uno strato qui di questo e poi uno strato così però dopo aspetta sbatte dopo non batte ok questa cosa è molto bella se non mi batte facciamo così no così no ok questa cosa non mi dispiace quello che ho fatto non mi dispiace non mi dispiace non mi dispiace molto bella bellissima allora sono un mago sto scherzando no raga non sono un mago siamo solo all'inizio adesso allora qui ragazzi è troppo piccolo anzi qui va anche bene ok allora proponimi opinione mia iniziamo a fare il tetto oddio è vero non ho messo la porta oddio oddio ok allora mettiamo le porte dove sono qui ecco sono cieco sono diventato cieco questi giorni ma va bene mettiamo la porta una qua e una qua ecco qui perfetto come la facciamo il tetto facciamo di vetro si dai facciamolo di vetro che è molto bella non mi dispiace come cosa raga se non volete vedere il video del del costruire della casa scorrete anche il video tanto non è un problema però se volete vedere come l'arredo se volete vedere come l'arredo dovete guardare il video fino alla fine perchè questo qua non so quanto dura però va bene ci metterò tre anni a costruire tutto il vetro però va bene e vabbè comunque ragazzi tra poco termino il video perchè devo andare via di corsa perchè devo fare una cosa ad a l'ikea a comprare dei mobili quindi eeeh devo andare via vabbè allora costruiamo un po' di tetto solamente per far veloce ok non c'è la fretta raga no 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 la fretta non esiste la fretta non esiste quindi io non vado di fretta anche se devo fare se ne vuoi non vado di fretta ok ok posso fare il tetto ok circondato tutto allora ragazzi se non vi spiace raga ditemi nei commenti se devo sostituire se devo sostituire il tetto con qualcos'altro non so tipo scalinate però se la se il tetto vi piace di vetro lo lascio così ovviamente così vedrai anche le stelle quando dormi è una cosa veramente bella questa cosa molto bella però questa cosa non è che mi dispiace tantissimo però va bene allora allora voglio scrivere solamente nei commenti se vi piace il tetto di vetro oppure devo modificarlo tutto off camera ditemelo solo tra voi raga la scelta quindi non devo neanche devo scegliere io perché sono lo ok sono lo youtuber però siete voi quelli che dovete scegliere quindi scrivete nei commenti quindi come devo modificare il vetro allora 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 ok vetro terminato ragazzi adesso faccio un breve tour vediamo com'è vediamo com'è venuto ragazzi ma cos'è sto buio immenso mettiamo delle lanterne poi raga dopo se arrivano alle forniture metterò delle lampade normali mentre raga le sostituirò eh ste lampe lanterne per il momento mettiamo solo queste quindi la cosa non mi dispiace cos'è sta roba qua ci prendiamo subito ok ok la casa del momento è così eh adesso toglievo tutto tanto abbiamo finito di costruire qui c'è un angolo molto aperto e molto grande devo dire però va bene raga non ho fatto una cosa in che sono stupido non ho fatto il vetro non ho messo il vetro sono stupido raga quanto sono stupido oggi da 1 a 10 10 raga io non mi offendo se iscrivete nei commenti se sono stupido da 1 a 10 eh non mi offendo tranquilli allora ok i vetri se non mettono anche sopra beh raga secondo me sopra il vetro pensa che non ci andrà però va bene però c'è anche sul tetto quindi vabbè io lo metto comunque vetro qui ovviamente per la camera da letto mettiamo un bel vetrone molto grande così così vedi l'orizzonte del mare bellissimo vista bellissima vista bellissima e anche qui 3 ecco qui perfetto molto bello perchè ho messo il vetro lì sono stupido vabbè e qui ragazzi direi che il vetro non c'è pitone perchè tanto c'è le terrazze dove puoi andare a vedere a goderti la vista perchè ho spaccato tutto qua perchè ho spaccato tutto qui sono una frana di brutto di brutto raga sono una frana sono una frana vabbè e niente ovviamente il tour della casa era questo quindi spero tanto che il tour vi sia piaciuto vabbè ragazzi adesso il video lo termino qui sperando che vi sia piaciuto il tour lasciate un bellissimo like se vi supportate questa è molta serie e il prossimo episodio ragazzi la cominceremo ad arredare niente ragazzi per questo vi sia piaciuto ci vediamo e nel prossimo video dell'ArbyCraft ciao a tutti